Oggi si è inaugurata la sede della Misericordia di Mazzara del Vallo in una sede prestigiosa, quello che è il Palazzo della Legalità, un assessorato con lo suo molto interessante e molto attivo abbiamo visto. Quindi come mai la scelta di inserire la Misericordia in un palazzo come questo? Intanto lo stimolo ci è venuto dalla sezione della Wildem perché mi è piaciuto non appena mi sono inserita dare uno sguardo a tutte le persone che occupavano questo palazzo visto che il mio ufficio doveva essere. E mi sono incontrata con la presidente della Wildem e poverina in carrozzina, spesso qui l'ascensore magari non funziona o se ne va la luce e lei non poteva salire a secondo piano. Nel frattempo è arrivata questa richiesta da parte della Misericordia e allora ho cercato di fare questo scambio che poteva essere utile alla Misericordia e utile alla Wildem. Insomma è andato bene, ci siamo riusciti con la collaborazione di tutti, anche perché penso che prendendo i contatti con il presidente, con il dottore Parisi, persone con cui ho collaborato in tanti e tanti settori positivamente, allora possiamo fare delle belle cose insieme perché altro è andare a cercare quella persona, altro trovarcela a portata di mano e quindi potere... Di fatti abbiamo già in progetto, in cantiere, gliene avevo parlato di fare il banco del farmaco e già ho trovato il terreno pronto, a portata di mano, basta scendere un piano e quindi le cose si semplificano. Signor Sindaco, un Assessore che si dà da fare davvero tanto, è quella di oggi una giornata importante, vediamo il volontariato al centro della sua amministrazione. Io ho una bella squadra, l'Assessore è naturalmente la nostra punta di diamante ma ho anche degli ottimi collaboratori perché non si arriva a una cosa di questa natura senza la collaborazione di tanti soggetti. La misericordia fa parte della storia sociale della nostra città, è un bel esempio nel mondo del volontariato ed è una testimonianza che non tutte le cose vanno male tra le nostre persone. Ci sono cittadini che lasciano la propria famiglia, la propria casa per aiutare gli altri e naturalmente di fronte a gesti di questo livello, l'amministrazione comunale deve sentire il dovere di dare una mano. Questi locali sono locali molto belli, accoglienti ma sono anche simbolicamente molto importanti perché sono stati realizzati all'interno di un manufatto sequestrato alla criminalità organizzata e quindi il corretto uso, la funzione sociale dello stesso edificio diventa uno strumento vincolante per il percorso che dobbiamo fare noi e speriamo anche un bel esempio per tutti. Come io credo che la misericordia sia nella vecchia gestione che in quella nuova abbia costituito una bella immagine sostanziosa e sostanziale della nostra città. Sono certo che quando i locali sono accoglienti si lavora meglio e quindi ci sarà anche un certo entusiasmo fra gli addetti che apprendo sono oltre 40. Naturalmente è bello sapere che c'è un'associazione con tante persone che lavorano, che non hanno soltanto il gusto di presentarsi, di far vedere che ci sono. Lavorano in silenzio e si vedono più gli effetti che gli stessi soggetti che provocano questi effetti. È una sede importante non solo per il significato della sede che è un locale tolto alla mafia ma anche per la rivestigia di un edificio comunale assieme all'assessorato della solidarietà sociale, assieme ad altre associazioni di volontariato. Ed è nel campo del volontariato che noi agiamo, siamo tutti volontari e siamo al servizio della città per quanto riguarda le necessità sanitarie di basso livello, cioè i trasporti sanitari che in un'epoca in cui Mazzara ha tanto bisogno di aiuto nel campo della sanità noi porgiamo il nostro piccolo contributo per i trasporti sanitari dagli altri ospedali a questa città e viceversa. Quanti sono i volontari qui su Mazzara? I volontari sono più di 40, diciamo di tutte le fasce d'età, ci sono giovani ma ci sono persone navigate, poi ci sono alcuni che danno la loro collaborazione, non soltanto economica perché non sono ormai fuori con l'età. Speriamo di incrementare il nostro numero e di diffondere sempre più l'idea del volontariato perché un volontario è qualcuno che ha da dare, accresce un po' la bontà del nuovo cittadino, del cittadino che è aperto a fare del bene e quindi a migliorare un po' la società. Noi cercheremo, come già detto al sindaco, di poter collaborare con l'amministrazione, poter aiutare chi ha bisogno in questa città, non guardando né il colore della pelle, ovviamente né tanto meno la religione, che noi siamo dei volontari, giovani e meno giovani, che danno il loro tempo libero, quello che possono, per aiutare chi ne ha bisogno. Faremo diversi progetti, già abbiamo visto anche con l'assessore sociale, progetti molto particolari, il problema è aiutare il prossimo. Spesso le amministrazioni, sia nazionali che regionali o locali, non hanno mai soldi per questo e in Italia sappiamo benissimo che il volontariato fa tantissimo, se non fosse per loro, non sarebbe malissimo per chi ha bisogno in Italia effettivamente. E noi faremo questo, aiutare il prossimo, a Mazzara ne abbiamo tantissimo bisogno. Per chi volesse far parte della misericordia, come contattarvi? Ci sono i numeri, il numero adesso non me lo ricordo, però ci sono ovviamente sia sull'ambulanza che anche su parecchie, possiamo dire ai cittadini mazzaresi che presto avremo un sito a breve e quindi basta collegarsi al sito, sarà a Mazzara del Vallo San Vito e troveranno tutte le indicazioni per poter avvicinare la nostra associazione e quindi partecipare al volontariato. Sicuramente è una svolta decisiva, abbiamo dato finalmente un posto a una associazione che è di vitale importanza per la città di Mazzara del Vallo e per la collettività. e avere una sede per una associazione non importante ma importantissima per dare possibilità ai cittadini di raggiungere velocemente una sede e chiedere informazioni come fare per avere il nostro aiuto e quindi una grande svolta che finalmente ci siamo riusciti.